buongiorno a tutti oggi è il giorno uscire di casa e poter avere le terapie necessarie già parecchi mesi fa dieci mesi fa è stata approvata una legge che destinava alle persone non autosufficienti risorse economiche 1.500 euro mensili lo ricordo ad ogni diretta la legge prevedeva che mensilmente dovessero essere destinate queste risorse io credo che sia un fatto di dignità di giustizia quello di accreditare regolarmente queste risorse economiche a queste famiglie a queste persone bisognose così come viene accreditato mensilmente lo stipendio e tutti i dipendenti pubblici a tutti coloro che hanno diritti perché chi lavora un diritto io credo che chi ha bisogno di assistenza abbia il diritto di essere di avere questa questo contributo mensile in modo da poter svolgere una vita il più possibile normale io da sei giorni faccio lo show per la fame mi va di sottolineare che il mio la mia azione non violenta è un'azione che sta dentro un diciamo tante azioni messe in campo da tante donne tanti uomini associazioni e fino a qualche ora fa ringrazio il coordinamento H che ha mandato un comunicato a supporto ringrazio tutti quelli che stanno decidendo di fare il show per la fame insieme a me ringrazio i tanti che su facebook in posta privata in composte pubblici stanno sostenendo questa azione che sto svolgendo che è un'azione che sta cominciando finalmente a portare dei risultati e stamattina ho ricevuto telefonate da alcune mamme da alcuni papà o anche da soggetti disabili che mi avevano sollecitato in queste settimane perché non ricevevano da mesi dieci mesi alcuni casi quattro mesi in altri casi questo contributo della regione e stamattina mi hanno detto che finalmente cominciano ad arrivare gli accrediti anche a loro dopo che in alcune asp è accaduto a inizio settimana in altre fine settimana scorsa perché purtroppo noi oltre avere una sanità che differenziata della qualità per regioni al nord si al nord funziona meglio ma regione del sud noi abbiamo anche una differenziazione per città per asp e quindi c'è stata un'azione distinta è stato uno dei temi che ci ha visto più di tutti batterci contro questa azione distinta delle asp che in alcuni casi versano con più celerità in altre più lentamente in alcuni casi chiedono alcuni certificati in altri casi non li chiedono proprio un po come l'inps l'inps a volte chiede provvedimenti chiede certificati di un certo tipo ad alcuni e in altri casi non li chiede noi vorremmo un'uniformità di trattamento ora accanto a questo assegno che deve essere versato regolarmente ripeto ci siamo battuti affinché si recuperassero i tre mesi tre ultimi mesi del 2017 e i quattro primi mesi del 2018 essendo a luglio già in ritardo di ulteriori tre mesi perché se questa macchina non si mette a regime ed è quello che ho cercato di spiegare ripeto senza buttarla in politica ma semplicemente occupandomi della questione di merito anche se ci fosse oggi un presidente in regione espressione di un partito politico a me più vicino starei qui a fare la stessa azione se vedessi la stessa sordità noi non chiediamo nulla di più che non nel fatto che questo contributo venga portato avanti in maniera regolare venga versato in maniera regolare ogni mese per tutte le famiglie invece ora stiamo recuperando alcuni ritardi dopo che ha dovuto sbraitare pif dopo che hanno dovuto protestare le associazioni che in questi mesi hanno condotto una battaglia dopo che tutti coloro che giornalmente vivono con la sofferenza hanno dovuto gridare 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 sempre più forte dopo che io con assoluta umiltà e dentro questa squadra che è grande che basta che ogni giorno cresce ho dovuto avviare lo sciopo della fame finalmente si comincia a pagare ora chiedo costantemente al presidente della regione con determinazione di firmare un decreto che ieri ha detto essere pronto chiedo di firmare questo decreto perché ho paura che se lui non ci dice oltre al fatto che questo decreto è pronto non ce ne fa conoscere i contenuti non sente le associazioni che hanno diritto ad essere ascoltato su un tema che li riguarda direttamente ho paura sui contenuti di quel decreto perché se è veramente pronto se veramente si vuole portare avanti un'azione in continuità con quella che si è svolta in queste settimane di finalmente riconoscimento di questi diritti non capisco perché il presidente della regione tiene nascosto il decreto non ne fa conoscere i contenuti e soprattutto una volta che l'ha fatto ogni martedì mattina si riunisce la commissione che si deve pronunciare su questi decreti perché non li presenta a questa commissione perché si sta trascinando ancora questa vicenda qui senza che se ne capisca bene le ragioni anziché polemizzare io ieri veramente sono rimasto deluso dalla reazione del presidente della regione io ricordo qualche settimana fa di aver difeso il presidente della regione di fronte a chi aveva contestato le sue parole su questi temi sempre non autosufficienza dicendo il presidente della regione ha detto che i soldi per i disabili sono soldi inutili io ho difeso prendendomi anche parecchie critiche dalle stesse associazioni che oggi stanno conducendo con me questa battaglia anche da persone esponenti del mio partito che mi sostengono perché dissi non può essere che il presidente della regione ha espresso un'opinione legata alla non utilità delle risorse per la disabilità perché non lo conosco come una persona non umana e che non abbia caratteristiche positive da questo punto di vista sarà è stata sicuramente quella un'espressione infelice ma non una volontà di individuare in quelle risorse risorse inutili siccome ho fatto questo io credevo e auspicavo ma siccome ho avuto sempre un atteggiamento in generale poco preconcetto e su questi temi della disabilità ancora meno preconcetto tutto basato soltanto sul merito riconoscendo ai governi di destra e di sinistra quando le azioni vengono svolte in maniera positiva o meno lo dico e faccio questa azione più da papà che da esponente politico magari con una sensibilità più spiccata proprio perché sono papà di una ragazza autistica e comprendendo naturalmente le sensibilità di tutti ma è chiaro che chi vive in prima persona un disagio da un punto di vista di diciamo di gestione di questo di questo tipo di situazione nel rapporto con le istituzioni sicuramente non è un disagio avere una figlia un figlio disabile anzi una grandissima ricchezza però ho cercato di avere questo atteggiamento qui di un papà che chiede alle istituzioni pubbliche siano esse le aspe o siano esse le istituzioni politiche regionali di intervenire con determinazione e quando ho chiesto al presidente della regione di fare questo decreto l'ho chiesto con questo atteggiamento qui vedere quella reazione di ieri è violenta piccata di chi la butta in politica di chi dice ama lui ha governato perché non se ne occupato io ricordo a musumeci ricordo a tutti voi che nel mio ruolo politico pur avendo commesso tanti errori chi non ne ha fatti ma sui temi della disabilità credo di aver svolto le mie azioni sempre con in maniera determinata e con risultati concreti ricordo la legge sul dopo di noi che abbiamo fatto qui a roma ricordo l'aggiornamento dei lea la sindrome di down era considerata una malattia rara e quindi i genitori venivano lasciati da soli senza livelli essenziali di assistenza e abbiamo fatto la prima legge in questa questa repubblica sull'autismo con tutto quello che vuol dire anche lì in termini di aggiornamenti livelli essenziali di assistenza e per tutto una serie di altri diritti abbiamo aumentato i fondi per la non autosufficienza sono ancora pochi ma l'abbiamo aumentato e portato a 500 milioni io ho cercato nel mio piccolo anche da presidente della fondazione italiana autismo di centrare più possibili risultati in tema di disabilità proprio perché questo paese un paese inclusivo è un paese che ha costruito una sensibilità anche una legislazione all'avanguardia purtroppo però accanto alle parole accanto alle leggi ben scritte non si è costruita una corrispondente azione quotidiana anche l'inclusione a scuola il sostegno e tutto quello che abbiamo scritto in legge a volte nella pratica non ha avuto risultati concreti e proprio per questo ho cercato di costruire anche un dialogo positivo con il governo della regione ho chiesto al presidente della regione il decreto ho chiesto alle asp all'assessore al presidente della regione se giudica è tollerabile corretto che ci debbano essere delle donne degli uomini aventi diritto sui per i fondi hanno una autosufficienza che magari non conoscono questa legge qui non conoscono questa possibilità che gli è data di poter presentare una domanda sono gli esclusi disagiati quelli che non si possono permettere il collegamento all'internet o che non hanno un iphone per potersi collegare un ipad un computer non hanno una mediazione di nessun tipo neanche di un patronato sono circa mille persone ho chiesto alle asp di contattarle non di sperare che non si facciano le domande per risparmiare qualcosa ma di contattare queste persone perché è giusto che abbiano assistenza se c'è questa possibilità diamogliela non stiamo lì ad approfittare di tra virgolette questa ignoranza per risparmiare qualche euro ho chiesto poi al presidente della regione avete stanziato in legge 40 milioni di euro per i disabili gravi perché non ne disciplinate anche lì l'utilizzo e non date la possibilità alle famiglie di avere queste risorse di poter vivere in una condizione migliore quando si parla di risorse a destinare alle famiglie con soggetti disabili si dà la possibilità ai soggetti disabili vivere meglio magari poter andare al cinema poter prendere una pizza di poter vivere una condizione più possibile di normalità andare a fare una passeggiata mangiare un gelato ma al tempo stesso si dà alle famiglie la possibilità di vivere serenamente e quante notti insonni quante giornate passate in una condizione di estrema difficoltà anche quante donne uomini mi hanno contattato perché hanno dovuto lasciare il lavoro proprio per poter assistere al proprio figlio e quando si destinano circa 1500 euro mensili e queste risorse possono essere utilizzate sia per quel che riguarda il l'assistenza del proprio figlio ma anche per poter avere un reddito che consenta di lasciare il lavoro che altrimenti se non si lasciasse non consentirebbe di poter assistere i propri figli tutto questo è un elemento di democrazia importante io credo vada garantito e vada tutelato io vi chiedo il presidente della regione commissario delle asp di avere un atteggiamento il più possibile coinvolto quando si trattano questi temi con la stessa sensibilità con la stessa determinazione di una mamma di un figlio disabile che aspetta di poter avere un'assistenza poter avere un contributo dall'istituzione pubblica credo che bisogna muoversi quando si hanno ruoli di responsabilità per cui io continuo a chiedere al presidente della regione di firmare il decreto che consente di regolamentare anche le risorse successive io ricordo le risorse sono state pagate ora con estremo ritardo fino ad aprile quindi maggio giungo e luglio siamo in ritardo e se riprende di nuovo l'iter delle asp dei criteri e di nuovo cambiati di un altro decreto che mette in campo altre azioni altre misure vuol dire accumulare altri mesi di ritardo e io credo che questo non sia concepibile non sia corretto e al tempo stesso chiedo di occuparsi dei disabili gravi chiedo di chiamare tutte le persone che hanno fatto domanda per poter presentare questa domanda e soffrire di questo servizio e chiedo soprattutto di svolgere tutte le azioni che consentano questa erogazione in maniera regolare mensile con una cadenza certa in modo che si possa consentire a tutti di programmare la propria vita lasciare nell'incertezza queste famiglie vuol dire non garantire loro una programmazione di una vita che è già disagiata e che ha già parecchi problemi e parecchie difficoltà nell'essere portata avanti per cui io vi chiedo a tutti voi di sostenermi in questa azione è chiaro che lo sciopero della fame mi sta rendendo sempre meno solido anche rispetto ai primi giorni ora la fatica si fa sentire di più il caldo anche nonostante integratori o altri è chiaro che non si mangia si ha difficoltà anche a svolgere una vita normale però credo che nonostante la maggiore debolezza non manca in me la determinazione e devo dire che il grosso del sostegno mi viene da tutti voi. Io quando ho iniziato questa battaglia non sapevo che che reazione avrei avuto da tutti voi molto spesso dai politici non ci si aspetta lo sciopero della fame viene più semplice dire a voi siete lì per risolvere i problemi io lo so che sono qui per risolvere i problemi li ho provate tutte per chiedere al presidente della regione a tutti di dare una mano di essere più conseguenziali rispetto alle parole che si pronunciano se sono arrivata allo sciopero della fame è proprio perché ho reputato questa l'unica arma possibile l'ultima arma possibile per far valere dei diritti di persone che magari non riescono a gridare e non hanno la stessa visibilità che ho io da senatore da persona che va in tv che magari è più ascoltata dai media e quindi sto mettendo a disposizione me stesso sto mettendo a disposizione questa mia azione per dare voce a tanti che voce purtroppo non hanno vi chiedo di continuare a sostenermi perché è chiaro che siete la mia unica benzina siete il mio cibo quotidiano devo dire e fin quando ci sarete voi che sosterrete questa battaglia io andrò avanti fin quando non ci daranno risposte concrete se qualcuno si aspetta un calo di tensione un calo di determinazione più passa nei giorni da me se lo scordano io smetterò soltanto quando vedrò che i risultati concreti quello che abbiamo chiesto quello che hanno chiesto le mamme i papà che hanno chiesto tutti i ragazzi disabili le persone disabili finalmente saranno riconosciuti questa è una battaglia di civiltà riguarda la mia terra la sicilia riguarda un tema non autosufficienza ma è chiaro che è soltanto una delle battaglie per i diritti negati che dobbiamo portare avanti dobbiamo continuare al di là dei risultati che ci entreremo su questa battaglia quindi forza io ci sono andiamo avanti determinati senza timore fino a quando non ci entreremo i risultati ciao a tutti e buon proseguimento di giornata a tutti e buon proseguimento di giornata